Mi chiamo Barbara e sono la mamma di due splendide bambine. A dire il vero sono mamma di una bambina di 8 anni che nella sua semplicità sotto il lockdown è stata capace di creare con qualsiasi cosa un diversivo alla noia. E poi sono mamma di una piccola donna di 14 anni dai superpoteri di un adolescente. Diciamo che la grande fatica è stata quella di schivare e incassare qualsiasi sua provocazione. La pandemia e lockdown? Colpa della mamma. La connessione lenta e negozi chiusi? Colpa della mamma. Zone rosse, gialle e bianche? Colpa della mamma. Non poter uscire la sera? Beh no, quello è stato colpa di Conte. Sì, è stato lui che lo ha deciso, anche se non lo ringrazieremo mai abbastanza. Ormai nulla più può spaventarmi se non il fatto che tutto ciò che l'è stato negato ora è solo stato posticipato di un po'. Ma vivere questi momenti è stato a volte anche divertente. Non avrei mai pensato di passare interi pomeriggi a raccontarci ed ascoltarci nel più profondo. E poi sfogliare interi siti alla ricerca di un abito che non avremmo mai indossato o cibi che non avremmo mai mangiato. E tutorial per tenerci in forma con improbabili esercizi. Qualunque cosa potete tenerci collegati al mondo.